da synergy città nuova finanziamo tutto ma proprio tutto a tasso zero accedi alle nostre straordinarie promozioni smart tv tcl full hd 40 pollici con il nuovo standard di premissione digitale a soli 349 euro e 99 lavatrice hot point 8 kg motore digital motion garantito 10 anni a soli 299 euro e 99 smart tv samsung ultra hd 75 pollici un vero cinema in casa in 4k a soli 999 euro e 99 20 commederate da 50 euro scopri nel nostro catalogo tutte le a prezzi imbattibili e a tasso zero lavorata porte e finestre ha iniziato una grande vendita promozionale porte in vero legno di prima qualità a prezzi di fabbrica finestre in legno legno alluminio pvc di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati oggi più che mai avrete il meglio al miglior prezzo vi aspettiamo presso i nostri showroom di caulonia e davoli ciao a tutti sono lucia fanzolari voglio parlarvi di me e della mia azienda benvenuti al centro estetico la contessa di siderno un oasi di benessere e relax punto di riferimento per trattamenti di bellezza innovativi e personalizzati la contessa tecnologia e professionalità al giusto prezzo il dottor gabriele pizzianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico lo studio opera in tutta italia esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico esegue l'analisi dei dati digitali documentali o multimediali quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli alterazioni manomissioni rilasciando report e certificazione legale per maggiori informazioni telefono 0 70 88 25 38 visita il sito www studio per italia pizzianti punto com puntualissima in diretta ben ritrovati a tutti la segna stampa di telemia oggi a mercoledì 21 luglio sono tante le notizie anche oggi quelli che riportano i quotidiani calabresi che puntualmente troverete in edicola al centro della nostra e vostra attenzione la politica regionale il voto d'autunno le grandi manovre ma parleremo anche di green pass di territorio e in coda lo sport con i movimenti di calcio mercato andiamo con ordine prime pagine iniziamo da gazzetta delle sud reggio bufera sui vigili la guardia di finanza associazione criminale il comune noi parte civile sequestri legittimi e irregolarità nel servizio di carro attrezzi due agenti ai domiciliari sette sospesi subito le notizie nel taglio alto sono i titoli sottotestata ancora reggio calabria aeroporto in crisi volano gli stracci tra comune e sacale qui un aereo al tito minniti di reggio confesser centi affonda i deors disagi per tutti qui corso matteotti a reggio calabria e sempre a reggio per cambiare argomento tentato omicidio delle boss benestare dopo l'arresto degli esecutori gli investigatori cercano il mandante l'incidente stradale mascherato di archi per quanto riguarda la giustizia riforma bucciata dai procuratori antimafia la lega ingolfa il ddl zanne prescrizione l'allarme di derao e gratteri subito a spalla con gli occhieli di reggio e provincia san ferdinando si insedia oggi il commissario prefettizio duro intanto lecchese sindaco durissimo lecchese sindaco arfuso decaduto dopo le dimissioni di sei consiglieri tre dei quali di maggioranza hanno tradito seminara dice ormai l'ex primo cittadino siderno aspe doppi pagamenti allo studio radiologico di siderno 16 a processo maria teresa fragomeni invece prosciolta la decisione del gip a processo imprenditore funzionari pubblici prosciolta solo l'ex assessore regionale maria teresa fragomeni che ricordiamo è anche candidata pd a sindaco a siderno parliamo di green pass e parametri regioni in pressing approfondiremo questa notizia tra poco all'interno covid serrato confronto e mediazioni per arrivare a un accordo il consiglio dei ministri slitta a domani il governo verso l'estensione intanto dello stato di emergenza fino alla conclusione del 2021 si teme una quarta ondata di covid con la variante delta che purtroppo mette tanta paura effetto europei a roma vedete contagi quintuplicati dopo i festeggiamenti purtroppo la situazione non è dei migliori proprio nel pieno dell'estate i casi di covid si sono quasi quintuplicati a roma rispetto all'11 luglio quando l'italia ha vinto gli europei al giorno dei festeggiamenti si è passati dunque da 122 a 557 e i contagi sono destinati purtroppo a crescere ancora in tutto il paese per fortuna nessuna criticità per il momento negli ospedali per gli effetti del vaccino lasciamo la prima pagina di gazzetta della sode ci occupiamo subito del quotidiano l'edizione di reggio calabria analisi falsi false appalti truccati la truffa della depurazione 4 ai domiciliari e 6 interdizioni l'indagine della procura di paola sull'alto terreno cosentino 17 gli indagati e poi la politica regionale a dominare qui vanda ferro fratelli d'italia insiste e la ferro rattacca il duo occhiuto spirli la deputata pare abbia già pronte due liste faremo il punto tra poco a pagina 6 e intanto dei magistris niente a cordoni con il pd non ci sarà dialogo reggio calabria derubavano ambulanti misure per nove vigili urbane vedete un frame degli investigatori a crotoni il pentito buonaventura nel processo proteggetemi al processo rinascita scott e la volta invece di bartolomeo arena questo per quanto riguarda la giudiziaria andiamo al taglio alto nelle edizioni di oggi del quotidiano del sud dell'altra voce dell'italia c'è l'editoriale di roberto napoletano riforme sì conservatori no e poi qui vedete i gratteri si parla di giustizia gratteri ed erao ecco gli effetti nocivi della riforma la nomina quanti luoghi comuni non veri sulle pensioni e sulla fornero e poi il libro di caligiuri l'inevitabile conflitto tra intelligence e giustizia andiamo avanti altre notizie che arrivano ancora dal quotidiano del sud per quanto guarda la prima pagina ci spostiamo al reggio la tasche force rompe con sacral durissimo botte risposta tra il presidente demetrio e l'organismo comunale basta notizie fuorvianti strategie catanzaresi per potenziare la mezzia e poi tiene banco il caso due fratelli arrestati per aver corrotto un carabinieri il militare sospeso anche dal servizio il nostro portale vuovute le mie appunto etile ultimissime per quanto riguarda il nostro sito coordinato dal nostro editore giuseppe mazzaferro e vedete la notizia siderno doppio pagamento fatture studio radiologico tutti rinviati a giudizio tranne l'ex assessore regionale maria teresa fregomeni che è stata prosciolta la notizia subito in tempo reale sul nostro sito e poi avviso ai mestieranti della politica occhio ai pandemi alz i nuovi elettori e ancora covid in italia governo valuta lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre lo dicevamo già prima attraverso i quotidiani calabressi lo stato d'emergenza che potrebbe essere prolungato fino a fine anno alto terreno dieci arresti in manetti un sindaco tre responsabili ufficio tecnico imprenditori e un tecnico anche dell'arpa cal e poi guardia di finanza di reggio arrestati due appartenenti alla polizia locale di reggio calabria ed altri sette sospessi dal servizio andiamo ad occuparci subito del giornale di calabria diretto da giuseppe suluri titolo in rosso per la prima pagina gratteri boccia la riforma cartabia il procuratore di catanzaro alla commissione giustizia della camera metti a rischio anche i max processi e poi i contagi covid già a rischio le olimpiadi di tokyo 2020 gli altri fatti del giorno sacca la regione calabria un'industria hanno aderito all'aumento di capitale catanzaro presentato il mgff ci saranno anche stavolta grandi ospiti al reggio calabria concussione finiscono nella bufera ben 9 vigili urbane la notizia del giorno che domini in tutti i quotidiani poi si parla approfonditamente anche di depurazione nel cosentino 10 misure cautelari per i presunti appalti pilotati chiudiamo con calabria.live vedete il titolo di apertura da draghi i sindaci del recover fund intollerabile lo scippo al mezzogiorno oggi in piazza montecitorio una larga rappresentanza dei primi cittadini delle regioni meridionali degli 82 miliardi previsti sono sicuro appena 22 si sta realizzando una nuova sottrazione di risorse ai danni dei meridionali un emendamento della caffragna porta al 40% la quota da riservare al sud l'unical è il quarto grande ateneo statale migliore in italia e poi l'allarme del procuratore nicola gratteri eccolo in foto con riforma giustizia il 50% dei processi saranno improcedibili dice dunque nicola gratteri e poi aldo ferrari in quest'altra foto presidente un'industria ha un valore simbolico l'architetto franco zagari dare significato all'opera proseguiamo per quanto riguarda le altre notizie a marcello anastasi carenza os attingere dice il consigliere regionale alla greodatoria dell'aspe di vibo valencia abbiamo completato con le prime pagine per quanto riguardava calabria.live è il momento di analizzare approfondire i temi più importanti all'interno parleremo ancora di pandemia di green pass di vaccinazioni dei contagi e soprattutto della variante delta ma anche di temi del territorio e noi quest'oggi apriamo la seconda la prima parte all'interno con il quotidiano del sud parliamo proprio di stato di emergenza si valuta la proroga fino a fine anno lo dicevamo prima nuovi criteri per i colori sul green pass si prevedono step per un uso più estensivo e qui vedete passeggeri con la mascherina in aeroporto e poi il bollettino lo dicevamo in apertura balzo dei contagi più casi del 2020 una situazione veramente difficile crescono purtroppo in tutta italia i contagi l'epidemiologo previste più infezioni luglio e agosto rispetto allo scorso anno per cui attenzione alta la pandemia non è stata minimamente sconfitta lo ha ribadito ieri anche il ministro della sanità in 15 giorni avremo purtroppo più ricoverate vedete queste sono le previsioni degli esperti sebastiani del cnr trend di crescita esponenziali dei positivi sarà un'estate ancora una volta difficile perché la crescita sarà costante dei contagi pagina numero 3 carlo è vivo e lotta insieme a noi in centinaia genova per ricordare il giovane morto nel 2001 e poi texas bezos missione compiuta per il giorno più bello proseguiamo con quelli che sono gli altri fatti del giorno temi adesso che riguardano l'ambiente che abbiamo anticipato in prima pagina appalti sporchi e gestioni truccate nella depurazione l'operazione nell'alto terreno indagati in 17 4 ai domiciliari e 6 interdizioni c'è la replica dimostrerò la liceità delle mie condotte barbara mele sindaco di san nicola d'arcella interviene sulle contestazioni eccola barbara mele in questa foto primo cittadino san nicola d'arcella poi a diamante nel cosentino la lunga proroga dell'affidamento la manutenzione degli impianti di depurazione e sollevamento qui il depuratore di località sorbo continuiamo con quelli che sono gli altri fatti del giorno altri contenuti all'interno del quotidiano la pagina numero 5 il servizio di guido scarpino gli infedeli taroccavano le analisi sulle acque reflue dati non conformi fate clorare poi lunedì ripetiamo vedete qui il procuratore di paola pierpaolo bruni in foto e poi la gola profonda del ruolo di fullone dell'arpa cal spifferava ai gestori degli impianti i dati sui controlli il dipendente del laboratorio incastrato dalle intercettazioni vedete qui un impianto di depurazione sito sulla costa tirrenica cosentina e poi il punto lo fa valerio panettieri con questo ampio servizio il grande imbarazzo della regione l'arpa cali si difende orso marso che ricordiamo e l'assessore regionale al vedete e l'assessore regionale orso marso in silenzio de caprio ricuce dicevamo per quanto riguarda i temi ambientali altri approfondimenti saranno analizzate anche all'interno di gazzetta del sud orso marso e assessore regionale al turismo per quanto riguarda le elezioni regionali in calabria per parlare di politica approfonditamente fratelli d'italia insiste sullo strappo e la ferro attacca roberto chiuto critiche per l'assenza al contro dibattito sul g8 vedete qui vanda ferro lunedì sera sarà assoverato la ronzulli fa muro il centro sinistra ringrazierà per il regalo e ancora vedete centro sinistra de magistri se nega la curduni sono i guastatori all'opera l'impegno politico non apprezzo dice duque de magistri se poi retroscena tanzi in stile striscia ad arghila attacca anche i suoi alleati in una diretta facebook udc cedolia a commissario straordinario della campagna di tesseramento noi proseguiamo sempre col quotidiano delle su delle pagine regionali calabria che anticipano tra pochi temi del territorio vedete reggio la banda dei vigili urbani parliamo di cronaca due agenti arrestati e sette sospesi per concussione falso e violenza privata accordi illeciti con le ditte dei carri attrezzi e pezzi di ricambio sottratti e qui vedete un sequestro incriminato eseguito da agenti della polizia locale sequestrato deposito giudiziario cutro due fratelli arrestati per aver corrotto un appuntato dei carabinieri truffa assicurativa in emilia il militare sospeso dal servizio indagati anche due suoi colleghi a catanzaro rifiuta il vaccino infermiera sospesa il provvedimento della triade commissariale dell'aspe con la sospensione dal posto di lavoro dell'infermiere che ha rifiutato così di vaccinarsi contro il covid 19 alla mezza terme è la volta di bartolomeo arena il collaboratore di giustizia ha fatto il suo esordio a rinascita scott prima l'infanzia normale protetta dai genitori poi l'uccisione del padre emergenza covid in calabria un morto e 33 nuovi casi questo è il bollettino delle ore 17 di ieri c'è un decesso in queste ultime ore nella nostra regione ancora per covid la pagina di reggio la task force rompe con saccal il caso durissimo voto e risposta tra il presidente demetrio e l'organismo comunale basta notizie forvianti strategie catanzaresi per potenziare la mezza terme e qui vedete il sindaco giuseppe falcomatà che ieri è stato anche a marina di gioiosa intervistato dalla nostra redazione da maria teresa crimiti e qui il presidente saccal giulio demetrio giuna più servizio del nostro tg proprio con un'intervista al sindaco della città di regia della città metropolitana c'è l'affondo europorto e quel piano industriale sacro gral per quanto riguarda il commento morelli spiega bene come canalizzare i fondi i piccoli interventi a pioggia non servono vedete qui l'intervento del consigliere regionale della lega tilde minanzi che appare in questa foto e qui alessandro morelli andiamo avanti con gli altri fatti della giornata museo del mare ancora nelle pagine di reggio un attrattore con anima identitaria a palazzo san giorgio prosegue il lavoro del tavolo tecnico quadro economico del progetto normativa antisismiche e criteri ambientali città metropolitana il consiglio invece il premio campanella e poi la riflessione dei ors più disagi che vantaggi per i cittadini e attività commerciali il valore dell'antimafia sociale i campi estivi di libera ed ecolandia l'iniziativa che vedete i campi estivi di libera ed ecolandia nel reggino lasciamo le pagine di regione apriamo un'altra importante che è quella che riguarda la terrenica la magica notte di chiana lea di scilla nella città reggina vedete si è svolta la sesta edizione della kermes di incontriamoci sempre il premio pesce spada d'oro a pippo callipo nuccio caffo e piero grillo e le bellissime immagini che riguardano vedete chiana lea di scilla per quanto riguarda le altre notizie anche la polizia locale la vuole melito portosalvo tutti invocano la rotatoria a pilati di melito sulla statale 106 ma per l'anas e lo svincolo caratterizzato da corsie di accumulo e a norma vedete il bivio per pilati di melito qui in foto a bova la premiazione del primo concorso dedicato alla shoah a bova marina passerella e solido privato la replica dell'amministrazione alla lettera di un genitore il comune l'ha installata proprio per non discriminare nessuno vedete qui la passerella in legno proseguiamo ancora con le colonne del quotidiano del sud con i contenuti che riguardano adesso la locride e ci spostiamo a siderno rifiuti noi per siderno dice no ribadita la contrarietà all'ingrandimento dell'impianto di contrata salleo incontro dibattito per discutere della struttura che la regione calabria vorrebbe ingrandire vedete qui maria teresa criniti la nostra redazione presente a questo importante incontro con questo dibattito coordinato proprio da maria teresa criniti insieme a cutugno tanzi calabrese e campana siderno tutti a giudizio tranne fragomeni lo dicevamo prima per la vicenda dello studio radiologico a bovalino serata in omaggio alla memoria del cantautore gianfranco riccelli anche un riconoscimento al giornalista ilario ammendolia ex sindaco della città di caulonia a stignano ai nastri gli incontri del villaggio campanelliano anche la diretta sul nostro canale pagina facebook comprendere la verità per immagini e per storie un format in quanto evento vedete una rappresentazione di campanella in questa foto la pagina di apertura che riguarda la piana cinque fronti elimina ancora una piantagione i carabinieri seguestrano tra i boschi 1229 piante di marijuana sviluppate in un'ampia piazzola di oltre 60 metri ubicata a 500 metri di altitudine vedete i carabinieri tra la piantagione per quanto riguarda palmi arma visita del generale cavallo il comandante interregionale dunque è stato presentato a palmi vedete qui insieme agli ufficiali dell'arma mollochio premio letterario a come al via una delle quattro sezioni di premiazione della prima edizione prima la scuola di melicucca seconda santa cristina e terza messignadi a gifone altro piccolo centro della piana contributo regionale per l'estate gifonese in arrivo infatti 8.400 euro proseguiamo sempre col quotidiano siamo nella parte finale di prima parte andiamo a seminara lo anticipavamo nei titoli di apertura spunto il primo candidato sindaco a seminara dopo la caduta di arfuso per le dimissioni di sei consiglieri su 11 antonio casella alla guida di una lista civica autonoma e vicina a nessuno residente nella frazione di sant'anna vedete il candidato antonio casella polistena in via lungo installati invece per 350 metri oltre 540 ombrelli di diversi colori commercianti hanno acculto l'idea di de domenico vedete gli ombrelli in via lungo nella città di polistena cinque fronti indagine note dolenti il rammarico di conia del sindaco il liceo musicale a gioia tauro giuseppe gelardi riconfermato presidente dell'amp calabria organigramma regionale dell'associazione nazionale presidi vedete qui giuseppe gelardi in foto abbiamo completato con la piana stiamo per chiudere con il quotidiano del sud un'occhiata veloce a quelle che sono le notizie ancora all'interno per parlare soprattutto di sport e le calabrese cosenza è iniziata l'era goretti vedete roberto goretti e il nuovo direttore sportivo del cosenza primo atto della nuova stagione ora la scelta del tecnico mentre il tempo stringe ufficializzato il nuovo direttore sportivo uomo di campo ottimista e coraggioso e lasciamo lo sport con la regina che prosegue la sua preparazione nel ritiro era la prima testata calabrese che abbiamo analizzato il quotidiano del sud per quanto riguardava i temi più importanti del giorno al momento non ci sono ragionamenti sul nostro portale per cui noi proseguiamo con la seconda parte e soprattutto con gli azzetta perché ci occupiamo subito dell'interno per parlare ancora una volta di coronavirus parametri green pass novità in vista domani consiglio dei ministri c'è grande attesa per questo consiglio dei ministri e nuovo decreto sul tavolo occupazione posti letto passaggio di un colore all'altro e soprattutto certificazioni braccio di ferro tra regione governo l'obiettivo e scongiurare fatali restrizioni e chiusure certa intanto la proroga dello stato di emergenza a roma esplosione di contagi per le notti azzurre green pass dunque estrette poi in calabria vaccinazioni ancora a rilento nella nostra regione oltre 3.500 nuovi casi e 10 decessi vedete come è risalita la curva pandemica tasso di positività all'1.6 per cento aumentano anche i ricoveri in queste ultime ore soprattutto per non vaccinati l'ema avviato la procedura di valutazione per il vaccino e intanto mediazione in corso per trovare un accordo che soddisfi i governatori e le varie anime dell'esecutivo obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro e questo è il punto di domanda libertà e responsabilità confindustria ipotizza trasferimento di mansioni o sospensione sindacati contrari giuristi possibilisti i paletti costituzionali e le previsioni del codice civile un disegno di legge tocca i prof intanto andiamo avanti altre notizie derao e gratteri bocciano la riforma ci occupiamo della pagina di attualità all'interno di gazzetta del sud giustizia penale e gli effetti della improcedibilità l'allarme dei procuratori nazionale procuratore nazionale antimafia e di catanzaro in fumo il 50 per cento dei processi con le nuove regole sulla prescrizione sicurezza al rischio vedete qui Federico Caffiero de Rao e Nicola Gratteri in foto e intanto i 5 stelle sulle barricate margini di mediazione una decina i punti controversi parliamo di infrastrutture nel meridione salvi 4,6 miliardi riscritto l'articolo delle recovery sulla perequazione rimodellazione bipartisan madame forse italia litigano sui meriti vedete mara carfagna ministra per la coesione territoriale nel centrodestra scatta una tregua armata rai cambi di casacca elezioni e tensioni fratelli d'italia pretende lealtà forse italia sotto shock dopo l'addio di malanne gli 80 anni di mattarelli alla politica pensa a un bis venerdì il compleanno che festeggerà il quirinale con figli e nipoti il presidente della repubblica pronto a festeggiare i suoi 80 anni settennato quasi al traguardo tra pochi giorni si entra nelle semestre bianco vedete sergio mattarelli è stato eletto ricordiamo presidente della repubblica nel 2015 ancora con gazzetta per gli altri fatti della giornata ci andiamo ad occupare subito dei temi tutti i calabresi prima passiamo come al solito dallo sport l'inter si avvicina a nandez locatelli c'è l'insidia arsenal sul centrocampista seguito dalla juve c'è l'offerta del gunner segolini a un passo dal tottenham che vorrebbe anche pellegrini intanto il mercato è sempre più in fermento le calabresi abbiamo detto stanno lavorando in ritiro e noi proseguiamo perché parliamo di politica regionale calabria vedete le pagine che riguardano soprattutto il prossimo voto d'autunno lo strappo di fratelli d'italia riapre i giochi la calabria vedete è una situazione anomala nel centro destra per quanto riguarda la situazione politica attraversato da tensioni e veleni meloni non accetta più un ruolo ancillare per il proprio partito i vertici invece dell'udc a crotone per battezzare la prima di sculco situazione dunque che incomincia a lievitare all'interno delle coalizioni ma ci sono tante divisioni i partiti a sinistra del pd dialogano con oliverio l'ex governatore per convincerlo alla corsa comune con amalia bruni e intanto calabria straordinaria presentata a milano il progetto della regione la carta dei 100 marcatori identitari l'obiettivo è rafforzare vedete l'app del territorio e dei tesori custoditi qui vedete trasferta per nino sperli presidente facente funzioni della regione calabria e fausto orso marso l'assessore al turismo della regione proseguiamo proroga di un anno per interventi del piano casa l'assessore alle infrastrutture garantiamo dice equilibrio sociale ed economico lo dice domenica catalfamo assessore che appare in questa foto l'approvazione in consiglio di una norma specifica rende efficaci anche i mutui accessi dal comune per le opere i cui termini sono scaduti andiamo ancora avanti ancora temi che riguardano gazzetta del sud all'interno parliamo di depurazione cambiamo decisamente argomento illegale depurazione illegale ci sono 10 indagati obbligo di firma per il primo cittadino di san nicola d'arcello ai domiciliari responsabili dell'ufficio tecnico di diamante interdizione di 12 mesi per un tecnico dell'arpacal e per un assessore comunale di bervedere spunta anche l'ombra della massoneria nell'inchiesta archimede della procura di paolo vedete qui scarichi inquinanti il sequestro del depuratore di san nicola d'arcella nel maggio del 2020 rientrava nell'inchiesta archimede e poi condotte collusive e fraudolente i particolari dell'operazione illustrati dagli inquirenti il colonnello su terra ricorso agli affidamenti diretti sotto soglia qui vedete per paolo bruni la tempestività dei carabinieri dice bruna evitato conseguenze peggiori funghi smaltiti senza adeguato trattamento nei terreni agricoli e non in una discarica archi chi ha dato l'ordine di uccidere benestare questo è il punto di domanda dopo l'arresto di emilio molinetti e marco geria le indagini della dda di reggio continuano un piano studiato nei minimi dettagli solo opera di due giovani vedete qui il pedinamento molinetti e geria in sella lo scooter prima dell'inchiesta continuiamo ancora con i temi che riporta gazzetta pagina di primo piano perché censire le opere di telesio e questo il punto di domanda intervista ad adriana paolini che con giliola barbero ha individuato i testi del grande filosofo cosentino e c'è la lunga intervista realizzata da francesco costner per quanto riguarda gli altri fatti del giorno altri contenuti importanti le pagine di reggio con la cronaca le mani in pasta della polizia locale due agenti arrestati e sette sospesi per 12 mesi sequestri legittimi ad extra comunitari irregolarità anche nel servizio carroattrezzi la guardia di finanza un'associazione criminale dice contestati concussione falsa violenza privata autocannibalizzate le auto per trarre guadagni illeciti sequestrata la depositeria giudiziaria autorizzata vedete qui inchiodati dalle video riprese un fotogramma tratto dal video diffuso dalla guardia di finanza che sta immortalando un sequestro finito agli atti dell'inchiesta una delle inditte incaricate dal recupero dei mezzi sarebbe stata riconducibile a un condannato per associazioni mafiosi ancora quando si accorgevano che i veicoli sanzionabili erano di familiari e colleghi si adoperavano per evitare di procedere col verbale azzerato in un solo colpo quasi tutto il reparto operativo gli approfondimenti si attendono gli interrogatori di garanzia per riorganizzare il settore specializzato ma mancano uomini un corpo senza pace dopo anni di instabilità si era invertita la rotta vedete terremoto la sede principale dei vigili sul viale Aldomora a Reggio Calabria la carenza di organico si farà adesso sentire maggiormente e si punta sui nuovi arrivi che sono a tempo continuiamo The Horse sempre a Reggio Calabria cronaca di un flop annunciato dopo una settimana confesercenti boccia la rivoluzione voluta dal comune di Reggio è incontestabile che questa novità estiva stia producendo per tutti più disagi che vantaggi lasciamo le pagine di Reggio siamo nella parte finale della rassegna stampa di oggi per quanto riguarda questo mercoledì 21 di luglio rigorosamente in diretta dallo studio centrale di Roccella conferenza per la progettualità dei nuovi approdi a sud Villa San Giovanni la facente funzione richichi chiama al tavolo RFI ANAS autorità portuale e capitaneria l'iniziativa segue la delibera di consiglio sulle opere del decreto ambientale vedete qui da San Giovanni il progetto dei nuovi approdi al sud e poi Santo Femi e Sinopoli cadono calcinacci alle poste e anche in chiesa a Villa aggredisce picchia la moglie con una stampella arrestato disposto il divieto di avvicinamento il pestaggio per futili motivi fuori da un negozio e sempre a Villa San Giovanni ricerca di un plesso per il nostro repaci la città metropolitana cerca locali in locazione con cinque aule didattiche raccolta rifiuti cambia il calendario Bagnara Calabo ordinanza del sindaco Frosina i nuovi orari in vigore da oggi al 30 settembre sanzioni per i trasgressori e poi a Bagnara parte il campo estivo per diversamente abili proseguiamo ci andiamo ad occupare adesso di terreni che ancora con le notizie arrivano dalla piana cinque fronti segue strata piantagione di cannabis sulla limina notizia riportata da Antonino Rasso invece a Seminara oggi si insedia al comune la commissaria Mancuso lo scioglimento dopo le dimissioni di sei consiglieri Arfuso lecchese sindaco traditori avranno pane per i loro denti dice ormai lecchese sindaco sfiduciato ed è Carmelo Arfuso ed è caduto dalla carica di sindaco per le dimissioni di sei consiglieri appello Gerry assolto anche Gregorio Bellocco ci occupiamo di giudiziare a Rosarno detenuto al 41 bis dal 2005 era stato condannato a 20 anni in primo grado avete qui Michele Bellocco classe 1980 figlio del boss Gregorio e qui Gregorio Bellocco assolto in appello nel processo Gerry palmi vandalizzati i bagni della villa comunale i balordi hanno divelto una porta la gettoniera e vedete il dispensa di igienizzante qui vedete i bagni della villa comunale obiettivo dei vandali ci sono approfondite indagini su questi episodi il messaggio di Grattera ai giovani studiate e dite no alla mafia Polistene incontri in piazza con il procuratore di Catanzaro e sulla riforma Cartabbia il 50% dei processi non si concluderà mai vedete qui il magistrato antimafia Nicola Gratteri procuratore della Repubblica di Catanzaro in questo fotino per Gazzetta dell'SUD ci occupiamo ancora di terrenica tra poco la ionica e i temi del comprensorio a Gioia Tauro Aldalessio il sindaco c'è accordo con la regione sarà un'estate serena e senza rifiuti le buone notizie sul fronte rifiuti il sindaco ottimista dopo il vertice in prefettura a Reggio Calabria con il prefetto Mariani aumentato il limite di conferimento a 40 tonnellate giornaliere vedete una discarica abusiva di rifiuti in città Rosarno prende corpo l'idea dello stoccaggio nel sito allo Zimbario secondo il comitato le leggi lo permettono in via temporanea e poi vedete qui una mega discarica nei pressi del campo sportivo e del museo situazione veramente difficilissima a Rosarno le dimissioni di Gaetano insultato da Tripodi dice Sanferdinando nella lettera protocollata al comune accuse al sindaco Andrea Tripodi l'ex vice sito che è assessore intende mantenere la carica di consigliere comunale l'ente parco punta tutto sui centri visite dopo lo Zomaro a Città Nova stanno per essere aperti San Giorgio Morgeto e Gerace intervista al presidente Autelitano che fa il bilancio dei 16 mesi di mandato eteparco nazionale della Spromonte un cartello di benvenuto per i turisti a Cinque Fronde l'inchiesta sul liceo musicale lascia con io rammaricato il primo cittadino interviene sulla vicenda con rammarico Bovalino siamo già alla Locride rifiuti disseminati sul litorale un pessimo biglietto da visita l'amaro sfogo di una mamma in vacanza a Bovalino con i figli piccoli un bene così prezioso per tutti e abbandonato alla sporcizia vedete località Santelina le immagini inviate dalla lettrice si commentano veramente da sole a San Lorenzo nel Regino troppo immondizia intervengano le autorità richiesti provvedimenti urgenti indifferibili a tutela della salute pubblica vedete il dibattito pubblico con crucitti la tela e neri a San Lorenzo di Reggio premiazione del concorso dedicato alla Shoah a Palizzi si svolgerà domenica prossima presso la Giudecca di Bova patrocinata anche da Ucei ambasciata di Israele e comunità ebraica di Napoli le letterine a Babbo Natale a Motta si spediscono anche in piena estate autore dell'inusuale richiesta è Diego dieci anni qui in vacanza dai nonni e ancora premio Onostos al vigile Modafferi autore di due diversi salvataggi operati mentre era fuori servizio gli episodi che l'hanno visto entrare in azione nel 2014 e nel 2017 le ultime news ancora quelli che arrivano dal nostro comprensorio vedete la Ionica e andiamo direttamente ad occuparci di questa notizia la libertà la verità nella notizia secondo Campanella partiti gli incontri del villaggio a tema promosso dall'amministrazione comunale di Stignano le attività in forma di convegno spettacolo riprenderanno il prossimo 29 di luglio vedete Domenico Campolo nei panni di Tommaso Campanella Santillario dell'Oionio si va a spasso nel Medioevo grazie al progetto Came Calabria Mediavale Monteleone che è il sindaco onorati di dare vita a questo percorso dice il primo cittadino che una bellissima veduta in bianco e nero del borgo con il suo castello Santillario dell'Oionio a Camini promozione della salute primi dati della ricerca e poi a Gerace i siti archeologici nel parco da Spromonte a Casignana la storia riletta da Del Bue a Casignana si parla della scissione tra il Partito Socialista Italiano e il nascente Partito Comunista Italiano appuntamento domani alla Villa Romana incontrata a Palazzi di Casignana Roccella filosofia torna alla scuola di alta formazione frequenza libera ma per motivo anticovid c'è un limite ai posti disponibili vedete Remo Bodei professore emerito dell'Università di Pisa Siderno 6 nelle mie radici la Calabria povera e semplice una storia sbagliata sacrificata sull'altare della violenza domestica a Gerace i siti archeologici nel parco da Spromonte la parte finale della nostra rassegna stampa dedicata adesso alle vicende che riguardano lo studio radiologico di Siderno doppi pagamenti dell'ASP in 16 rinviati a giudizio l'inchiesta sulle fatture dello studio radiologico sidernese unica prosciolta e lecchies assessore regionale Maria Teresa Fracomeni candidata anche a sindaco in vista del voto autunnale a Siderno vedete qui lo studio radiologico Fischer la centro delle indagini per quanto riguarda i doppi pagamenti dell'ASP scrive così Gazzetta con l'ampio servizio di Alfonso Naso Riace il sindaco Trifoli cerca il terzo bronzo lo scrive Cristina Scuteri Antonio Trifoli sindaco di Riace ha sempre sognato fin da quando era consigliere di maggioranza nell'amministrazione guidata anche da Mimo Lucano di riuscire ad ottenere per il paese qualcosa in più della sola notorietà del nome rispetto al rinvenimento delle maestrosamente belle sculture riconosciute come bronzi di Riace e il sindaco cerca così il terzo bronzo rifiuti numerosi gli interrogativi sul nuovo impianto a Siderno focus indetto da noi per Siderno le emissioni verrebbero più che raddoppiate con le nuove linee di lavorazione e ancora per quanto riguarda la vicenda dello studio radiologico di Siderno c'è un approfondimento certa di una veloce uscita dalla vicenda sollievo nelle parole dell'esponente Democrat riferimento a Maria Teresa Fragomeni che appare in questo fotino grazie ai sidernesi che non hanno ceduto agli avvoltoi l'avvocato Gemelli contento di essere riuscito a dimostrare l'estranietà della mia assistita dice l'avvocato Gemelli Caoloni inaugurata la sede di Ursini rinasce attività volte a mantenere vivo il senso di appartenenza e l'amore verso il paese e sempre a Caolonia pioggia di successi per gli atleti dell'Ulimp al campionato nazionale Libertas di corsa in montagna vedete la bella soddisfazione qui l'atletica Ulimp di Caolonia porta a casa importanti risultati dovrebbe essere questa la notizia conclusiva per quanto riguardava Gazzetta del Sud poi qua si parla di rifiuti numerosi gli interrogativi sul nuovo impianto a Sederno c'è stata questa iniziativa lunedì sera l'approfondimento con il focus indetto da noi per Sederno le emissioni verrebbero più che raddoppiate con le nuove linee di lavorazione qui vedete un momento del dibattito che ricordiamo è stato coordinato dalla nostra redazione con la presenza di Maria Teresa Criniti abbiamo così concluso con Gazzetta del Sud degli aggiornamenti tutti sul nostro portale per quanto riguarda la giornata di oggi 13.30 invece il nostro TG News con tante notizie quelle che arrivano dal comprensorio e da tutta la Calabria per la prima edizione nel primissimo pomeriggio la rassegna stampa invece tornerà puntualmente domani grazie per chi avete scelto il nostro canale e anche oggi per quanto riguarda l'edicola digitale a tutti voi una serena e felice giornata di estate arrivederci da Rita Severino Abbigliamento via Tenente Carella Roccella Ionica è arrivata la nuova collezione primavera estate qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna dal classico al casual scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levis Trussar di Jeans Marella Surcana Linea 5 Gaia Live Sanremo Ingram e tanto altro scelgono con serenità poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta Rita Severino Abbigliamento via Tenente Carella Roccella Ionica è la scelta giusta La scelta giusta off Grazie a tutti.